Ci sono state delle proposte, avrete le risposte. Mi prometti che non lo eleggete oggi? No, mi posso dire ci sarà una scheda bianca. Mi prometti che non lo eleggete oggi, se no noi nei prossimi giorni che fiamo? Non ho capito, non ho capito, scusa. Se mi poi promette che non lo eleggete oggi, perché se no noi nei prossimi giorni che fiamo? Porta la pelle lunga, il più possibile. No, spero proprio che abbia risolverito. Il consigliere ha detto di non chiudere anche ai nomi di centrodestra, nessun veto. Lei d'accordo? Ha fatto un discorso assolutamente condivisibile. Che però va contro quello che diceva Letta. Ha detto che facciamo proposte e non mettiamo veti. Riccardo è una buona proposta? Assolutamente sì, assolutamente. Però oggi è andata con la proposta? Persona di grandissimo spessore. C'è questa proposta? C'è questa proposta? Io vi giuro. Mario Draghi non è più un'opzione per voi? O è ancora aperta come possibilità? Ragazzi, scusate. Ragazzi, dai. Come è che la stessa? Dai, per cortesia. Ragazzi. Grazie a tutti.